bentornati in un nuovissimo video di acquario low cost devo fare un video un po diverso dal solito perché ho trovato comunque uno dei giochi per pc che credo sarà uno dei migliori giochi di acquarioferia nel futuro perché comunque è fatto molto bene e anche super super didattico infatti lo voglio proporre proprio per questo perché alla fine non è solo un gioco ovviamente è intrattenimento è un gioco è divertente però aiuta tantissimo anche a capire un po diciamo le basi dell'acquario ma anche anche più insomma anche adatto a gente che comunque già ci capisce di acquari è molto divertente perché riporta tutti i parametri da seguire e appunto è anche molto educativo didattico per cui ve lo vado un attimino a presentare a spiegare facciamo un primo passo che ha il tutorial come vedete c'è la possibilità di fare il tutorial fare una pasta vuota una vasta amazzonica è una vasta malawi proviamo con il tutorial e così ci insegnerà un attimino a ad utilizzarlo facciamo prova partita e in pratica subito ci ci dice che cosa fare la prima cosa da fare è attivare il filtro mettere un filtro a mettere prima un filtro perché poi andrà anche attivato quindi lo prendiamo lo mettiamo in posizione e subito dopo non so perché non lo visualizzi però comunque si è stato piazzato e andiamo ad attivarlo come vedete c'è la possibilità di attivarlo e non solo di regolare l'ugello di uscita la potenza quindi la direzione dell'ugello di uscita e anche eventualmente il 21 cioè la possibilità di fare ossigenazione oppure no e questo ovviamente riporterà come vi farò vedere più tardi tutti dei dati che ovviamente faranno cambiare poi tutti i parametri dell'acqua dell'acquario adesso mettiamo uno sfondo che continuiamo con il tutorial usciamo dalla visualizzazione per utilizzare la vasca e andiamo a fare acquisti adesso dobbiamo comprare cinque pietre prenderò queste che comunque voi già visto che sono molto carine poi anche la grafica è molto molto ben fatta lo vedrete più avanti ma che poi posizioneremo tutto quello che adesso ci fa comprare bene acquistate le rocce andiamo a acquistare le piante prendiamo tre bacofa c'è tre cabomba scusate 5 euro 99 abbiamo 200 euro iniziali con il budget e prendiamo anche due ludwigia glandulosa ok con le piante siamo a posto vediamo adesso ci fa comprare i pesci e ci sono ovviamente come vedete sono tutte specie comunque esistenti e sono fatti anche piuttosto bene e non solo poi come vi farò vedere più avanti ci sono anche tutti i parametri consigliati per tenere determinati pesci e poi anche lo stress all'interno della vasca eccetera eccetera è fatto veramente molto molto bene divertente e ci aiuta sinceramente anche a capire come funziona effettivamente un acquario vero anche se poi ovviamente dovete capire adesso compriamo gli scaldatori da 150 watt ovviamente è un gioco per cui ho già visto che almeno in alcuni casi io non sono molto d'accordo però è un gioco per cui deve comunque alla fine tornare tutto e ovviamente quando il gioco funzionerà se fate quello che che secondo chi ha inventato il gioco dovrebbe insomma funzionare anche in un attorio vero però diciamo che è un gioco e su alcune cose non sono d'accordo però comunque rimane molto 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 interessante è un po ovviamente accademico però aiuta tanto quindi insomma anche da questo punto di vista poi insomma è divertente andiamo a piazzare le rocce e come vedete le si possono piazzare poi con il tasto destro si possono ruoteare poi anche insomma creare mucchi un po come ci pare insomma gestendo anche abbastanza bene il layout diciamo mettiamo anche questa pietra facciamo un bel mucchio e questa mettiamo qua ok sta rotolando tutto ok ci siamo ha trovato una situazione stabile e quindi andiamo avanti andiamo a mettere le piante ora non so come si toglie questa finestrina che ci dà poi tutte le informazioni sulla pietra eventualmente anche per spostarle o per toglierle dall'acquario se non le vogliamo più ottenere perché come vedrete poi anche le pietre cambieranno ovviamente i parametri dell'acqua mettiamo una cabomba qua facciamo un bello sfondo di cabombe e questa che è enorme ok abbiamo fatto lo sfondo ora metto le ludwigia un po in primo piano e così abbiamo piazzato le piante e ovviamente come vi farò vedere più avanti in base poi con questo modo si può anche ruoteare ovviamente l'acquario non so perché mi dia sia così buio sinceramente non stesso sbagliato qualcosa nelle opzioni grafiche però insomma tanto eventualmente se poi il video piace eccetera magari farò degli episodi ci giocherò vi porterò insomma anche gli aggiornamenti per capire un po come condurre un acquario e quali saranno poi le varie insomma funzioni perché vi farò vedere che è possibile acquistare ma è possibile anche vendere per cui credo che potrei allevare i pesci poi venderli eventualmente credo anche le piante e poi ovviamente quei soldi che fai comprerai altre cose perché c'è un sacco poi di materiale da comprare anche ad esempio un piatto d'osmosi impianto per fare acqua qui dobbiamo impostare il riscaldatore accenderlo e portarlo a 25 gradi ora c'è una cosa carina e vi faccio vedere che praticamente ci dice per attivare insomma il termometro attivate il termometro e aspettate la temperatura che raggiunga la temperatura adatta per fare questo si manda avanti velocemente il gioco come vedete infatti ci dice ok arrivato a temperatura e quindi questo si potrà fare in ogni momento in cui diciamo siamo un po fermi si manda avanti il gioco per poi fare vedere come andrà avanti l'acquario nel tempo inseriamo i pesci e quindi poi toccherà vi farò vedere che toccherà anche fare dei cambi d'acqua quando sarà necessario eccetera eccetera perché i nitrati saranno si saranno alzati perché l'acquario non è bilanciato perché non c'è abbastanza piante magari rispetto ai pesci un po come nella realtà insomma e quindi eventualmente dovremo fare dei cambi d'acqua oppure aggiungere delle piante per fare ecco qua sto andando il cibo mi aveva detto il tutorial di dare 0 2 grammi di cibo ai primi pescetti e poi dice di ricordarsi nel tempo di dare regolarmente il cibo ai pesci qui finisce il tutorial e diciamo che questa prima parte del tutorial per insegnare un po per imparare un po il gioco ci siamo adesso come vedete cliccando su ogni elemento dell'acquario in questo caso la ludwigia glandulosa ci dà tutti i parametri per comunque allevare questa pianta ci dice l'ossigeno prodotto e l'asciutto consumato quindi è fighissimo a questo punto di vista poi ci dice vedete con queste altre schede lo stress della pianta e la fotosintesi e questo è veramente ben curato e ci dà un sacco di parametri utili anche poi eventualmente per capire effettivamente come funziona un acquario poi nella realtà altrimenti come vedete si può senzionare i pesci che abbiamo vedere la scheda di controllo rimuoverli qui si c'è la camera focus quindi in questo modo si va a chi appare proprio pesciolino in questo caso ora sono nascosti dietro le rocce per cui ciao insomma sono fatte benissimo e comunque anche se si nasconde e come vedete nella scada poi abbiamo lo stress la scheda stress perché ci dice tutti i parametri per cui insomma in cui teniamo il pesce eventuali poi problemi che potranno arrivare nel futuro sono fatti benissimo e sono comunque specie reali questo infatti è il tetra nero e niente come vedete ci dice sia l'ossigeno consumato l'aceto prodotta e l'ammonia l'ammoniaca prodotta sono tutti i parametri che poi nell'insieme dovremo tenere presente e ci darà poi delle informazioni sulla vasca in generale adesso vi farò vedere come vedete qua c'è la descrizione poi eventualmente degli oggetti dal grado in vasca in questo caso le rocce e se entriamo in questa scada come vedete ci da tutti i parametri della vasca quindi con temperatura 20 gradi ph 7 e mezzo poi la durezza carburatica a 8 la durezza generale gh a 10 poi l'ossigeno disciolto e anche lo scambio gassoso in realtà quindi ci da veramente tutti per la conducibilità ci da tutti i parametri che servono per gestire la vasca come vedete il bilanciamento dell'ossigeno i pesci in questo caso deve ancora aggiornarsi secondo me perché avevo già provato e mi dava dei valori che non erano a zero come vedete c'è uno scambio gassoso per cui in questo momento c'è uno scambio gassoso di 389 milligrammi litro e poi la co2 quindi la co2 prodotta dai pesci la co2 consumata dalle piante che in questo caso non la sta tanto perché ripete secondo me si deve aggiornare e poi anche l'ammoniaco prodotta insomma quindi veramente fatto da dio e poi c'è addirittura alla storia come potete vedere la storia per cui ci dice in base ai valori che vogliamo controllare e i valori nel tempo come sono variati e in base a quello insomma capire un po il perché sono variati e quindi gestire la vasca di conseguenza ovviamente ci sono poi degli obiettivi da raggiungere all'interno del gioco che vi farò vedere più tardi e quindi in base insomma a tutto questo non solo si impara comunque l'acquariofilia e tutti i parametri a tenere presenti ma insomma è anche divertente e si porta avanti delle vasche virtuali che secondo me comunque è molto 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 divertente come vedete nel reparto shopping come vi dicevo si può anche vendere e quindi mano a mano che accumuleremo oggetti da vendere pesci piante eccetera anche vasche volendo potremo venderle come vedete qua invece siamo nella sezione acquisti ci sono le radici e ci da tutte le informazioni eventualmente sia il prezzo che le informazioni per poi eventualmente comprarlo e metterlo in una vasca quindi insomma come vedete ci sono insomma adesso si sono sbloccate anche altre varietà di pesci perché ovviamente più andrete avanti più si sbloccheranno anche altre qualità di pesci che potrete poi comprare e inserire negli acquari e qui c'è il cacatoides e quindi anche cicli di nani americani e poi il classico gruppi eccetera eccetera per cui insomma veramente veramente interessante poi la descrizione di ogni varietà i parametri da tenere presenti per hanno vari determinati pesci e c'è insomma l'allevamento quindi comunque veramente veramente ben fatto e divertente io niente continuerò a giocarci e come vedete qua ci sono le missioni diciamo e quindi facendo poi le varie versioni si aumenterà di livello e andremo avanti ovviamente nel gioco qui ci sono la descrizione dell'obiettivo le condizioni poi eventualmente si può accettare la richiesta e quindi fare raggiungere l'obiettivo con queste missioni come vedete e niente una volta raggiunto ovviamente un obiettivo se ne sbloccherà un altro e così via e quindi si andrà avanti nel gioco molto 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 ben fatto anche la grafica è veramente ben fatta per cui per cui niente ripeto io ora prova dimenticavo la luce che in realtà era già attiva non l'ho affatto fare nel tutorial però come vedete c'è la possibilità accenderla ovviamente spengela di mettere un timer e quindi di impostare il fotoperiodo e eventualmente anche la potenza della lampada col di questo è il resto come vedete poi ecco qua eventualmente si può anche cambiare la luce o credo non so se si può anche aggiungere una luce a quella già presente però insomma volendo si può appunto comprare le luci oppure un'altra vasca si può fare anche altre vasche dipende ovviamente dai soldi che abbiamo nel budget eccetera e portare avanti diverse vasche anche per raggiungere magari altri obiettivi in cui richiede magari che ne so l'allemamento di una vasca di gruppi e questo magari non abbiamo una vasca tata per cui la creeremo per raggiungere quell'obiettivo niente qua come ripeto ci sono tutte le statistiche che si aggiorneranno nel tempo e niente credo e spero che questo video sia utile e se vi è piaciuto il video e vi piace il gioco e volete altri aggiornamenti mettete un mi piace mettete un commento e ne farò altri in futuro noi ci sentiamo in un prossimo video e ciao a tutti e grazie della visione alla prossima